Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Nuova video recensione di software audio-video acquistato in usato. Protagonista di questo video, l'edizione in DVD di un film precursore delle peggiori minacce della rete. Prodotto e distribuito in DVD dalla Columbia Pictures, The Net, che in Italia ha mantenuto il titolo originale, seppur aggiunto del sottotitolo, intrappolata nella rete, è una pellicola del 1995 diretta da Irwin Winkler, regista e soprattutto produttore cinematografico statunitense. Famoso per aver prodotto tutta la saga di Rocky Balboa e del suo spin-off Creed, arrivato proprio quest'anno al terzo episodio. The Net è un thriller con qualche scena d'azione interpretato da Sandra Bullock, attrice in questi anni lanciatissima dopo il successo di Speed, girato l'anno precedente insieme all'attore canadese Keanu Reeves. In The Net, la Bullock interpreta Angela Bennett, una bella analista programmatrice che si guadagna da vivere eliminando virus informatici da programmi sviluppo. Per scelta, Angela vive una vita da reclusa, concentrata sul suo telelavoro. A parte le visite alla madre, ricoverata in una RSA per Alzheimer, Angela ha una vita sociale solo digitale. Quando decide di prendersi la sua prima vacanza in sei anni, si imbatte in un programma in cui compare una backdoor nella forma di un simbolo pigreco. L'apertura di quella backdoor cambia radicalmente la vita di Angela, la cui identità viene rubata dai pretoriani, un gruppo di pirati informatici interessati a nascondere i segreti nascosti dietro quella backdoor. Il dizionario dei film Il Mereghetti assegna solo una stella e mezzo su quattro a The Net, che il critico giudica uno dei meno deludenti tra i nuovi cyberthriller. Purtroppo, la buona idea dell'identità cancellata è a sua volta cancellata da una clamorosa inverosimilianza, a partire dal doppio ruolo della stessa protagonista. Da nerd reclusa e online H24, ha ricercata sulle TV nazionali ma libera di muoversi ovunque. Giudizio meno critico quello delle riviste specializzate. Alta fedeltà digitale assegnava addirittura tre stelle su cinque a The Net, valutando positivamente la prova della Bullock, sebbene in un contesto piuttosto prevedibile ed inverosimile. Molto valida, la lettura di Digital Video Home Theater nella recensione al DVD di ottobre 1998, con l'esplicito riferimento al maestro del brivido. Prima di leggere questa recensione, la visione del film mi aveva dato la stessa sensazione, seppur con risultati molto diversi da quelli che avrebbe potuto raggiungere Hitchcock. Una versione sintetica di questo film non avrebbe sfigurato come uno degli episodi dell'ora di Hitchcock. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, il riversamento in VHS era già di buon livello, con un'ottima resa dell'immagine del suono, seppur quest'ultimo non eccessivamente spettacolare. Nel passaggio al DVD, uscito nel lontano luglio 1998, molta della spettacolarità si perdeva, a causa di contrasto e di luminosità un po' sottotono, e soprattutto dell'elevato livello di compressione per un supporto originariamente a singolo strato. L'inutile doppia codifica audio consentiva di apprezzare maggiormente il riversamento multicanale, anche se un po' insordina. Il riversamento, oggetto di questa video recensione, è una special edition datata 2006 proveniente da Ex Noleggio. In questo caso il supporto è stato elevato a DVD 9 e finalmente si può definire un'ottima edizione, seppur presenti in fin dei conti gli stessi limiti delle precedenti. Il video a schermo pieno, 1.85 a 1, guadagna più di tutti dal doppio strato, con un livello di compressione che si fa evidente solo in piccoli momenti. Il resto è tutto quasi all'eccellenza del formato. Purtroppo l'audio, seppur pulitissimo e correttissimo, risulta un pochino spento, quasi a voler creare un'atmosfera più che a stupire, contribuendo con le peculiarità della sceneggiatura a far perdere al film un altro po' del suo smalto. Come special edition, che si apprende solo dal dischetto, il DVD contiene un commento audio, due trailer e due speciali sul film, ciascuno di 20 minuti circa. Molto particolare anche il colore oro-rosa del DVD che non avevo mai visto prima. Per quanto mi riguarda, non ho molto da aggiungere su questo lungometraggio. A parte la bella e dolce Bullock, che si guarda sempre con piacere, credo che la rilevanza di questa pellicola stia nel senso del messaggio, più che nel risultato. Dagli inserti speciali si apprende quanto la sceneggiatura abbia subito un taglio e cucito, che giustifica alcune delle sue incongruenze. Sicuramente dalla regia di Irwin Winkler ci si aspettava decisamente di più, considerato il suo passato non solo di produttore, ma di regista di pellicole come indiziato di reato con De Niro. Per questo The Net, eliminato tutto il già visto, resta il senso vero del messaggio, quello della pericolosità multipla della rete. Non solo per l'effetto sociale dell'azione dei pirati informatici, ma anche per quello personale di un isolamento della protagonista, reclusa nella sua realtà virtuale di cui diventa vittima anche per colpa. Nessuno l'ha mai vista, nessuno sembra riconoscerla. Lasciamo stare che poi nella clinica della madre forse qualcuno avrebbe pure potuto confermare la sua identità. La pericolosità dei media e l'isolamento a cui possono portare si estende anche alle telecomunicazioni. Internet sì, ma anche il telefono sono protagonisti dopo la bullock di questa pellicola. Anzi, alla fine è internet che salva la protagonista, ma è il telefono che continua a metterla nei guai. Questa Special Edition 2006 in DVD esce in contemporanea al sequel The Net 2.0, disponibile solo per l'on-video. Per questa video recensione è tutto, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita. La verità è stata libera. La verità èinfilка. La verità è stata libera. Grazie a tutti